Ciao a tutti! Allora facciamo un po' resoconto delle vincite ieri sera che sono state strepitose e cioè ambate, ambetto, ambo in terzina, veramente fantastico, ieri sera è un'estazione veramente da ricordare allora intanto io vi do gli aggiornamenti per domani, cioè di 27 vi raccomando ricordatevi di iscrivervi e anzi vi dico un'altra cosa di questa quartina su Bari e Torina sono quattro numeri però se volete io non ve lo scritto nella previsione però ci sono i capogiochi che sono il primo 47 e il secondo 58 e farò un altro video vi raccomando iscrivetevi che vi do anche le posizioni delle due ambate, va bene? Quindi ricordatevi di seguirmi iscrivendovi quindi le ambate principali sono primarie 47 e 58 e vi darò le posizioni anche 4 5 Grazie.